Dolore e cordoglio a Terra Nuova Bracciolini per la morte del giovane Diego De Falco, deceduto sabato scorso in seguito ad un terribile scontro tra auto avvenuto in pieno pomeriggio tra Acquarata e Ponte Muriano, nei pressi di Arezzo. Questo martedì mattina si è svolto il primo esame autoptico sul corpo del giovane conosciuto in Valdarno per aver giocato a basket in alcune squadre del comprensorio. In base al primo accertamento, il ventenne non ha assunto sostanze stupefacenti o alcoliche che avrebbero compromesso la sua lucidità, quindi la morte da debitare alle lesioni causate dal forte impatto provocato dall'urto. Resta comunque da conoscere l'esito del secondo esame con il quale è possibile vedere se Diego fosse stato colpito dal malore durante quei terribili attimi. I medici comunque, dopo una prima ricostruzione, avrebbero escluso questa seconda ipotesi. Solo dopo il completamento dell'autopsia, l'APMRC di Aspena, che si occupa del caso, darà l'autorizzazione ai funerali, che si svolgeranno probabilmente questo giovedì 25 o venerdì 26 aprile alle 10 del mattino. La camera ardente da questo pomeriggio è stata allestita all'ospedale del Santa Maria alla Gruccia del Valdarno ed è diventata luogo di peregrinaggio di molti amici e coetanei. Le esequiesi si celebreranno nell'arciprettura di Santa Maria Bambina di Terra Nuova Bracciolini, la parrocchia della famiglia De Falco. Intanto le due ragazze aretine gravemente ferite nell'incidente di sabato scorso a Castiglione Fibocchi di 16 e 19 anni sono ancora ricoverate in gravi condizioni a Siena e a Firenze e la prognosi resta riservata per entrambe.